Stazione di Isernia, un giovane straniero si avvicina a tre ragazze, tenta l'approccio, inizia a molestarle, alza le mani e loro, spaventate, chiamano la polizia. È un nigeriano, ospite di un centro d'accoglienza di un comune della provincia Pentra che poi si dà alla fuga. Gli agenti della squadra volante intervengono prontamente e attivano le ricerche. Il fuggitivo viene rintracciato dopo pochi minuti e, viste le testimonianze e gli indizi a suo carico, viene fermato e condotto in questura. È accaduto nelle scorse ore e dopo gli accertamenti del caso la polizia lo ha tradotto in carcere in via Ponte San Leonardo. Spaventate, le tre giovani hanno raccontato che il nigeriano ha tentato di usare violenza, anzi che le avrebbe strattonate e molestate, tanto che su di lui, al momento, pende l'accusa di violenza sessuale. Nelle prossime ore, gli sviluppi della vicenda.